Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Ferrolat Plus. A cosa serve? Ferrolat Plus ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda Carefarme SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Carefarme SRL. Concessionario. Carefarme SRL. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Ferrolat Plus 20. Capsule 12G. Descrizione e caratteristiche. Integratore alimentare a base di ferro san-active utile per un'integrazione marziale efficace. Carenza di ferro per scarso apporto alimentare e per aumentato fabbisogno. Avvertenze. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Ingredienti. Per 1 capsula. Ferro san-active 30 mg. Lattoferrina 100 mg. Vitamina C 20 mg. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo. Integratore alimentare esaminato.